C'è chi arriva e chi potrebbe andare via. La vicenda Holy System Start che ha riguardato circa 200 dipendenti della ditta call center alle porte di Modugno sembrava essersi conclusa. I centralisti di Sorgenia saranno assorbiti della network di Molfetta perché è a 30 chilometri da Modugno che il servizio di energia ha spostato la sua commessa. Ma anche lì pare che la situazione non sia delle più rosee perché l'RSA della CGL ha messo nero su bianco che si prospettano ben 310 suberi e che l'azienda intende aprire una procedura di licenziamento collettivo. La proposta è stata rigettata dal sindacato che dovrà trovare con l'azienda una soluzione entro il 3 agosto data d'arrivo dai 200 provenienti proprio dall'Holy System. Grazie alla sensibilità dell'azienda ma anche degli stessi sindacati con cui so che il confronto è in atto, ho avuto assicurazioni che si potranno assorbire quelle unità che in questo momento apparirebbero in più. Però tenete conto che i flussi di grandi aziende di queste dimensioni sono dinamici e quindi possono avere dei momenti di alta e bassa intensità di mano d'opera. Se i dipendenti di Holy System gridavano Sorgenia, resta con noi, lo facevano proprio perché a rischio c'erano i 200 posti di lavoro e l'intera azienda che, venendo meno questa importante commessa, rischia di chiudere. Situazione analoga nella zona industriale di Bari Modugno anche per la Bosch e per altri colossi della zona che contano centinaia di dipendenti e che rischiano di trovarsi in un'isola deserta. Ma se da una parte c'è chi chiude i battenti, dall'altra c'è chi prova a ripartire proprio dal lavoro. Se noi riusciamo a far decollare la nostra meccanica, adesso grazie alla ZES che è diventata formale, ufficiale con l'approvazione del decreto ministeriale, alla fine del mese, i primi di settembre, fine agosto, porteremo in Consiglio Comunale l'ampliamento della zona industriale. Il nostro impegno è creare nuovi posti di lavoro. In controtendenza alle territori dimitrofi noi vogliamo incrementare l'occupazione.